Grande spessore anche la parte economica? Sì, la parte economica di questo contratto è la parte che è determinante in quanto comunque mette in condizione di difendere l'aumento del costo della vita, quindi fondamentalmente l'aumento inflattivo, sono dei parametri legati anche al concetto di revisione in base a quello che sarà un po' l'andamento inflattivo, quindi da un certo punto di vista abbiamo cercato di cogliere l'esigenza delle imprese di avere comunque un contratto che non fosse troppo pesante, soprattutto in momenti in cui vanno date gli arretrati, fondamentalmente dai tre anni e mezzo di famigliazza contrattuale, sia c'è anche un sistema premiante che comunque va ad aggiustare questo incremento in funzione della produttività. da dire che comunque questo contratto oggi viene firmato, ma è un contratto che è stato portato avanti comunque nei tre anni precedenti della passata presidenza, oggi diciamo che si va a cogliere un po' la chiusura avendo aggiustato alcuni dettagli, però diciamo che vorrei condividere questo risultato anche con il past president Rondelli in quanto appunto forse è giusto dire che è stato colui a lavorare su questo tema di me.